la gita di oggi prevese la visita alla cima pari che domina il lago di l'edro passando attraverso questa bella malga, la malga trap, il rifugio pernici la bocca di chaval e infine la cima ecco il rifugio pernici un giardino un giardino che meraviglia ed eccoci giunti alla magnifica croce di vetta della cima pari con il suo fantastico panorama che domina il lago di l'edro un giardino un giardino un giardino un'aggerino un'aggerino più i rimi un'aggerino un giardino un nuovo giardino Grazie a tutti Sì, 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 sì Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì.